3, 2, 1, via! 5, 6, sinistra, 30, 3, destra, apre 6, in lunga, in 1, sinistra, lunga! In 3, destra, stringe, 50, 2, sinistra, lunga! 50, 4, destra, lunga, in taglia molto, 5, sinistra, in 5, destra, lunga! Apre su crinale, in 5, sinistra, molto lunga, in taglia molto, 5, destra, 60, 6, sinistra, apre 30, 6, sinistra, in 5, destra, stringe, 50, allo stop! E adesso vediamo il secondo Montecarlo, subito qua, connessi Montecarlo con Peugeot 208, vediamo cosa combina il nostro pilota Martinelli. 5, 4, 3, 2, 1, via! 30, 3, sinistra, lunga, stringe, in 3, destra, lunga, apre, 80! 4, sinistra, lunga, stringe, 50! 4, destra, lunga, apre su crinale, 100! 4, destra, lunga, apre su crinale, 80! 2, non, viste, sinistra, stringe! Apre, lunga, stringe, 2, lunga, apre, in 3, destra, lunga! Apre, tieni la sinistra, su 50, 4, destra, lunga, stringe, 3! In 4, sinistra, lunga, apre, 50! 3, sinistra, lunga, stringe, attraverso tunnel, 50! 3, destra, lunga, apre, e 6, destra, su crinale! E tieni la sinistra, su 30, 3, destra, lunga, stringe, e tornante, non, visto, aperto, a sinistra! Apre, 30! Tornante, non, visto, destra, apre, 6, lunga! 30, 4, sinistra, stringe, 30! 4, destra, stringe, in 3, sinistra, lunga, in 3, destra! 30, 4, sinistra, in 1, destra, lunga, apre, in 3, sinistra, molto lunga, 60! 4, destra, lunga, apre, su crinale, 30! 4, destra, in 3, sinistra, molto lunga, stringe, 2, lunga! 4, destra, lunga, in 4, destra, lunga, 30! 4, sinistra, in 4, destra, lunga, tieni la sinistra, su 50! Attenzione, 6, destra, 5, sinistra, molto lunga, in 5, destra, lunga! Ralletta, tieni la destra, su 60! Tornante, aperto, non, visto, sinistra! 6, sinistra, lunga, apre, su crinale, tieni la sinistra, su 150! Tornante, aperto, non, visto, destra! 6, sinistra, lunga, 50! 6, destra, su crinale, salto, 50! 3, destra, stringe, 3, sinistra! Tieni la destra, su 50, su crinale, 6, sinistra, su traguardo, in 4, destra! Sì, siamo i campioni! Il duro lavoro ci ha ripagato! Sì, siamo i campioni! Vediamo qua anche... come si affronta queste due... S veloci, anche qua, anche S veloci, subito sul tornante sinistro! Bellissimo, questo tornante sinistro! Adesso la diamo sul tornante destro! Con spazzolata, subito via! Molto bene, molto bene Martinelli, si sta comportando molto bene in questa fase... Seconda fase di Monte Carlo, prova corta, 4 km e passa... Qua sul ponte vediamo spazzolata, vediamo molto, molto bene... Comunque siamo quasi, quasi, quasi alla fine... Vediamo qua che il tempo è notte, quindi i piloti staranno molto attenti... Comunque il fondo è molto vicido... No, si sta comportando bene... Adesso ci sarà la parte molto più lunga, dove ci saranno due serie di tornanti... Il primo a sinistra... Ed eccolo... Molto bene... E' secondo a destra e poi ci sarà il traguardo... Infatti qua... Vedi che... Molto bene, molto bene... Comunque il fondo è molto vicido... E siamo arrivati... Infatti... Fa un tempo e ha una sbavatura qua sul ponte... Purtroppo... Il fondo è vicido...